Le statistiche ufficiali ci dicono quello che nel momento in cui ci troviamo è la cosa più probabile, o almeno dovrebbero. Quindi l'atteggiamento più razionale da adottare in qualsiasi momento è quello di credere ciò che è probabile, ciò che è acquisito attraverso metodi che garantiscono un certo grado di probabilità e quindi è razionale fidarsi della statistica ufficiale. Ovviamente questo è compatibile con la possibilità che qualcosa che ci viene comunicato sia falso, ma questo non è un motivo per non crederlo nel momento in cui lo crediamo, perché noi possiamo credere una certa cosa in un certo momento perché è la più razionale, anche se poi si rivela che quella cosa sia falsa. Quindi l'assenza di certezza non è un motivo sufficiente per non crederci. Noi crediamo a quello che è più probabile in quel momento, fino a prova contraria.